Dobbiamo stare molto attenti a queste comunicazioni che vengono compiute in modo avventato creando l'armismo nella popolazione, quindi stati d'ansia e soprattutto creando anche un danno all'economia. Le comunicazioni cui si riferisce il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern sarebbero quelle diffuse da un sito web che avrebbe annunciato un possibile vaia 2 in alto piano. E la mente di tantissime persone è subito corsa a quel disastro che tra il 26 ottobre e il 5 novembre del 2018 mise in ginocchio la nostra montagna con danni che si stanno pagando ancora oggi. Si può ben immaginare come la gente si sia allarmata preferendo restare a casa piuttosto che rischiare di imbattersi in una tempesta. In realtà più che una tempesta qui è stato sollevato un gran polverone per nulla e il primo cittadino di Asiago ai nostri microfoni non usa mezzi termini contro chi ha divulgato queste vere e proprie fake news. Pensiamo a questo fine settimana che tutto sommato le condizioni meteorologiche hanno garantito anche delle giornate soleggiate, c'era pochissima gente ad Asiago. Io credo che l'informazione meteorologica debba avvenire da parte di centri che forniscano informazioni dettagliate e con cognizioni di causa per evitare che si creino allarmismi. È proprio il sindaco che attraverso i social ha voluto inviare un messaggio chiaro con un testimonial d'eccezione. L'immagine dell'acero rosso è testimonianza vera della rinascita dopo le devastazioni determinate dal vaia. E condanna duramente la superficialità di chi si improvvisa esperto. Chi rilascia, chi diffonde informazioni avventate può creare un danno importante ad un'economia come la nostra che vive di turismo. Credo che sia fondamentale agire con serietà e acquisire informazioni da siti, da pagine social che abbiano una affidabilità certa e che siano in grado di fornire informazioni attendibili.